Addio vecchia lavagna nera d'Ardesia, a mai più vederci simpatici gessetti bianchi. L'innovazione tecnologica si fa sentire anche in ambito scolastico. Da quest'anno gli studenti dell'Istituto Superiore Valle Seriana di Gazzaniga fanno lezione con la lavagna interattiva multimediale, sulla cui superficie si può scrivere, disegnare e tracciare segni. Pieno entusiasmo manifestato dagli studenti che sperimentano una modalità di lavoro in classe meno trasmissiva e più interattiva. Sono stati anche responsabilizzati rispetto alla gestione degli strumenti. Nei momenti liberi, per esempio, hanno accesso ai notebook, possono scambiarsi materiali e accedere alla rete. Si è potuto notare che chi è di solito più isolato nel gruppo, ma possiede abilità nel campo informatico, riesce a diventare un leader positivo. L'Istituto ha fatto questa scelta di questo investimento proprio perché, oltre anche a essere scuola capofila, rispetto al bando emesso lo scorso anno dal Ministero per l'acquisto di queste, per la dotazione di queste lavagne interattive, ha anche all'interno delle competenze valide e attive per quanto riguarda l'implementazione di queste nuove tecnologie. Naturalmente anche tra i docenti c'è chi si è mostrato subito entusiasta e chi fa più fatica. Nella scuola sono comunque disponibili assistenti tecnici abilitati che supportano i docenti che ancora non hanno familiarizzato con questa tecnologia. L'Istituto crede molto in questa nuova forma di attività che chiaramente motiva di più gli studenti, li rende più partecipi e dà la possibilità a ogni studente, anche quello magari un po' più isolato, di mettere a frutto le sue competenze e di proporsi anche come leader positivo all'interno della classe.